e qua cosa c'è real madrid questo era il madrid bro la residenza della cantera e alla derecha puoi muovere l'edificio d'officina che si costruìo ma questa è la cantera vuol dire le giovanili andrea sono avanti guarda c'è anche il traduttore adesso siamo già dai primi campi di erba naturale la città deportiva come potete vedere questo è il campo dove ci alleniamo aeroplamente del madrid della castiglia e qua stanno ogni giorno lavorando per farlo impeccabile per gli allenamenti e per arrivare in questa categoria per al madrid castiglia devi avere un privilegio enorme e all'ultimo passo per arrivare posso provare anch'io vai gol 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 la prima parte del team ogni bambino ha un dream di un giorno adesso è il turno di nacho come everything dietro le quinte ehi come va è il mio turno adesso lo faccio vedere alle facilitazioni vi spero che vi piaccia vedete come oh hanno una cosa di formula 1 io sono venuto qua quando avevo dieci anni ho speso tutta la mia vita ingegnandomi nel real madrid accademia l'accademia in primis e poi in secondi nel team è un sogno stare qua mi sento fortunato abbastanza da spendere tutta la mia vita qua io e la mia famiglia siamo stati sempre dei fans del real madrid e al crescere qua da così giovane è sempre stato speciale ho sperimentato qualche bella momento qua sono stato fortunato che io e mio fratello abbiamo condiviso delle esperienze fantastiche come essere promossi nella sezione della mia vita credo che credo che quando sei un giovane prendi vantaggio e puoi guadagnare da questa maglia c'è un'eccitazione e devo dire che oggi ancora gioco per questo club è fantastico madonna che traduzione era veramente bello andare nel centro del real madrid ma ora è diversissimo ricordo che quando ero nell'accademia ho condiviso lo spogliatoio con vecchi giocatori anche le stesse doce dove ci toccavamo a volte i nostri beni era molto complesso non volevo però è fantastico quando andiamo nudi in queste piscine e ci dicono dai abbracciatevi che così vi fate più caldo poi continuiamo in questi corridoi e la magia continua è per questo che la magia del miglior club del mondo poi a volte prima della partita ci spostiamo nelle camere da letto che sono delle incredibili strutture che danno guardate qua guardate qua questo vecchio di merda ci ha fatto perdere tanti anni ma adesso fortunatamente non c'è più e noi ci divertiamo la sua insaputa finanza qua è dove prendiamo gli steroidi qua è dove giochiamo perché non abbiamo voglia di fare un cazzo qua a real madrid ma non puoi fare così tutta la vita a volte devi anche godertela per cui non c'è solo il calcio nella vita c'è anche il biliardo poi pong e anche mangiare mangiamo molto qua mangiamo molto qua c'è la menza vabbè basta basta oh bello il centro sportivo di madrid anche io cercherò di entrarci dentro se si vive così sa che sei un po' vecchio chris no bro sono nel pieno fra posso dirti che l'esplosione secondo me sta sui 32 anni posso dirti che secondo me sei al top della forma no al top della forma secondo me 29 30 anni sì io per colpa sì 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 ho avuto cioè poi io l'età che sto vivendo adesso magari per colpa di un po' di stronzate che ho preso negli anni passati sennò potevo essere più in forma però adesso un po' di problemi diciamo che ora la vivi come fa Ibrahimović quindi ti devi allenare per essere al top il triplo esatto bro ciao 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 ciao